La nostra battaglia continua perché ancora non sappiamo neppure quali saranno le competenze di un Senato ma si mira a volerlo di nominati e nominati da una classe politica che ha già blindato con la nuova legge elettorale l'altra Camera quindi per noi si prefigura uno scenario che non ci soddisfa e comunque vorremmo che tutto questo lasciasse spazio invece a quelli che sono i problemi degli italiani a partire dal lavoro, a partire da una crisi economica che Renzi non potrà continuare a nascondere perché a settembre si avvicini a settembre ci sarà una resa dei conti molto più importante di quella del Senato per come lo vuole trasformare lui.